Passa da qui perché ha paura? Dopo l'esperienza di Genova, chi non ha paura? Ma quando ci sarà la piena come farà? Eh, è un bel problema. Io che sono fino a 35 quintali, allungo di 20-25 km e passo da Cavologno Superiore, ma con un dispendio di tempo non indifferente. Piuttosto che transitare da quel budello sulla 106 diventato un vero e proprio caso nazionale, automobilisti e camionisti hanno deciso di passare al piano B. Attraversando il greto del torrente Allaro su uno sterrato non autorizzato a proprio rischio e pericolo. L'ipotesi di realizzare un guado alternativo al viadotto osservato speciale è stata definitivamente scartata. La costruzione infatti avrebbe tempi più lunghi rispetto a quelli prospettati da Anas. Perché abbiamo paura della caduta del ponte, specialmente dopo i fatti di Genova, che ci viene il desiderio di morire per l'incuria e per il comportamento scorretto delle istituzioni. Con un bambino in macchina soprattutto, il ponte è molto pericolante, quindi dobbiamo passare da qua per forza. E' una brutta cosa per i bambini, per il pulmino. Adesso che devono viaggiare? Non possono dormire, non va bene. Devo passare o di là o vado a monte, all'altro ponte. E' quando inizia la scuola che è il problema, capisce? Intanto presto inizieranno le opere di bonifica nell'alve del torrente, che sarà ripulito da massi ed erbacce. Mentre lunedì inizieranno i lavori di rinforzo delle pile 5 e 6 del ponte repubblicano. Per lo start vero e proprio dei lavori di ricostruzione servirà tuttavia ancora aspettare. Ilario Balì, per la Cineus 24.